buongiorno buongiorno a tutti Rita Querzè Corriere della Sera è un piacere oggi essere qui in Confindustria Lombardia per parlare di lavoro di lavoro grazie a un'indagine molto articolata che è stata eh condotta da voi sentendo le vostre imprese di quaranta tre territoriali presenti nel nord e del centro Italia. Bene è davvero un piacere il lavoro è quello che sorregge le nostre aziende e il nostro sistema produttivo siete in tantissimi collegati e quindi io vado abbastanza agile e rapida avremo una eh tavola rotonda eh con alcuni direttori del personale per commentare questi dati avremo la rappresentazione eh dei dati e della ricerca ma per cominciare partiamo con i saluti del direttore di Confindustria della Lombardia. Dario Voltattorni. Rito a per sé per eh per l'introduzione eh innanzitutto eh benvenuti a tutti a questa presentazione eh molto importante di quelli che sono i dati eh sul mercato del lavoro che riguardano eh gran parte del 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 centro nord. Il mio compito oggi è appunto soltanto portare un saluto eh un ringraziamento a tutte le associazioni territoriali che hanno contribuito a realizzare questa indagine e soprattutto alle eh oltre duemila imprese che hanno partecipato a questa indagine eh duemila imprese che rappresentano eh più di eh quattrocentomila addetti nel nel centro nord. È importante come diceva Rita Perse perché eh perché all'interno di quello che è il eh il mercato eh non solo del lavoro ma nel mercato all'interno del cui all'interno del quale partecipano tutte le aziende la componente del capitale umano il capitale umano sta diventando davvero un elemento strategico per per le imprese. A maggior ragione se riflettiamo su quello che sono eh le le cosiddette twin transition quindi transizione ecologica e transizione digitale ecco per portare avanti per sviluppare per essere leader all'interno di queste due transizioni è necessario certamente fare anche una transizione del capitale umano quindi l'indagine che oggi andremo a presentare è molto importante molto utile proprio per capire quella che è oggi la fotografia di più di duemila aziende rispetto a diversi ambiti di di analisi quindi la gestione del personale evidentemente l'organizzazione del lavoro le politiche di assunzione e i tassi e i tassi di eh di 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 assenza. Ecco questa è un'indagine che eh come diceva Rita Quersè ha coinvolto più associazioni territoriali quindi il mio saluto è anche un ringraziamento a tutte le associazioni territoriali che ci sono messe a disposizione eh per portare per condurre questo tipo di indagine che come dicevo ha coinvolto più di duemila imprese. Quindi eh nella filosofia di Rita Perse io andrei molto rapido ringrazio ancora porto i saluti tutti di di tutto il consiglio di presidenza di Confindustria Lombardia e a questo punto passo la parola a a a Rita. Prego. Grazie. Grazie mille e io chiamo a mia volta invece Andrea Fioni che è responsabile del dell'ufficio studi che eh ha lavorato e coordinato tutto questo lavoro per entrare appunto nel nel merito dei contenuti. Grazie. a tutti eh grazie io dedicherò buona parte del quarto d'ora che ho a disposizione a ehm presentare i risultati sui temi di maggiore attualità che abbiamo affrontato con l'indagine in modo da lasciare spunti alla tavola rotonda prevista dopo il mio intervento. ma eh mi soffermerò anche eh sul alcuni aspetti eh importanti quindi eh i fini dell'indagine e i contenuti sui contenuti i numeri della partecipazione eh che se non altro per qualificare l'attendibilità dei risultati e la struttura del rapporto che avendo l'ambizione di essere uno strumento di lavoro per chi eh diciamo si occupa di eh personale deve assicurare la semplice reperibilità dei eh dati. Per tutto il resto eh vi rimando ai rapporti che sono stati predisposti dalle eh da ciascuna associazione ehm vedrete eh alcune delle copertine di questi rapporti sono tutti impostati nello stesso eh con con lo stesso schema eh con eh l'unica differenza è quella dei ehm dettagli di tipo geografico. Cominciamo a dire che stiamo parlando di un'indagine del sistema Confindustria quindi diversamente da quelle di dell'Istat non ha lo scopo di un' analisi eh statistica eh ma bensì quello di monitorare il mercato del lavoro e produrre numeri che eh altrimenti non sarebbero disponibili da fonti ufficiali ma che servono a chi si occupa di gestione del personale. La partecipazione non è obbligatoria ma è stata ampia e qualificata e i numeri raccolti anche se non hanno una ehm rappresentatività in termini eh strettamente statistici lo sono lo hanno però ehm per quella che è la finalità dell'indagine ovvero dare una rappresentazione realistica dei fenomeni eh in modo da consentire a chi deve prendere decisioni a livello aziendale di poterlo fare. Hanno come anticipato in precedenza partecipato complessivamente duemila aziende attraverso i due canali di rilevazione che abbiamo utilizzato un questionario Excel e un'indagine online abbiamo eh la partecipazione di ehm ha avuto la partecipazione di indagini di tutte le di aziende di tutte le dimensioni piccole, medie e grandi con una maggiore rappresentanza di aziende industriali che peraltro eh riflette la base associativa di Confindustria. Questa partecipazione è stata favorita dalla ehm coordinamento tra ventitré associazioni territoriali che eh hanno aderito all'iniziativa ritenendola utile per i propri associati che sono in gran parte aziende eh innovative e spesso internazionalizzate con una eh elevati investimenti in capitale umano e quindi la necessità di utilizzare strumenti eh sofisticati per la loro gestione. Eh la localizzazione di queste eh associazioni territoriali come vedete è eh nell'area economica più sviluppata del paese abbiamo tutte le nove associazioni lombarde eh che comunque che fanno capo a Confindustria Lombardia che ci ospita abbiamo cinque associazioni territoriali piemontesi eh due associazioni dell'Emilia e eh tre della Toscana a rappresentare la parte più meridionale del territorio analizzato e quattro associazioni che rappresentano quasi tutto il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Come detto l'analisi è uno strumento per la gestione del personale e eh quindi abbiamo dato al rapporto una struttura che eh eh renda facile la reperibilità dei numeri. Eh a parte l'introduzione abbiamo quattro sezioni una dedicata alla gestione del personale, una all'organizzazione del lavoro, un capitolo sulle politiche di assunzione e l'ultima dedicata agli indicatori di feedback organizzativo. Nella gestione del personale eh viene dato conto di come le aziende stanno eh utilizzando le leve di compensation e eh la le gli aumenti retributivi messi a budget per il duemila e ventitré, il ricorso al welfare aziendale, la eh percentuale di premio eh convertita. Eh nel mh capitolo nel terzo capitolo eh le aziende possono trovare dei dati di benchmark sulle ore lavorabili, sul ricorso allo straordinario, sull'uso del welfare, del dello smart working. Eh un intero capitolo è dedicato poi alle politiche di assunzione per fare un quadro sulle difficoltà che le aziende stanno incontrando per assumere nella reperibilità di eh personale eh un quadro che dà anche conto del dei processi di ricambio eh generazionale in corso nelle aziende e come le aziende le stanno eh gestendo eh informazioni sulle modalità di inserimento dei ehm neolaureati eh al primo al primo impiego. Infine la parte sugli indicatori di feedback organizzativo mette a disposizione delle aziende dei eh valori fisiologici di un due indicatori molto importanti per eh monitorare eh la il clima aziendale. Il tasso di turnover volontario quindi la percentuale di eh dimissionari in azienda di persone che hanno dato le dimissioni in azienda e il tasso di assenza con ampi dettagli ehm anche di tipo geografico. Per non perdere però di vista l'attualità abbiamo condotto appunto alcuni approfondimenti su temi oggetto di dibattito. In particolare l'impatto eh che la fiammata inflazionistica ha avuto sulle politiche retributive e eh gli interventi che eh le aziende hanno fatto a favore dei propri dipendenti, l'inalzamento della soglia di esenzione dei fringe benefit, i vantaggi e gli svantaggi che derivano alle aziende eh dall'introduzione dello smart working basati sulla sperimentazione di chi l'ha fatto. eh l'impatto del mismatch tra domanda e offerta di lavoro sulle nostre aziende e eh appunto eh quali sono le eh quanto è diffuso il la la necessità di ricambio generazionale nelle nostre aziende. Cominciamo dall'inflazione eh sappiamo che nel duemila e ventidue eh il i tassi hanno raggiunto eh valori che eh non si registravano da molti anni l'indice FOI è cresciuto dell'otto e uno per cento eh qualche mh giorno fa eh l'Istat ha comunicato che l'indice IPCA al netto dei beni energetici è cresciuto del sei sei per cento ci si aspettava un quattro e sette fino a qualche giorno prima le aziende hanno eh messo a budget per il duemila e ventitré aumenti retributivi mediamente nell'ordine del due nove tre per cento con punte del quattro virgola quattro per cento nel comparto metalmeccanico ma il sessanta per cento delle aziende ha comunque eh effettuato interventi a supporto della ehm dei propri dipendenti e il quaranta per cento che non l'ha fatto eh è stata a questo impedita da vincoli di tipo finanziario o competitivo ehm oppure ma più raramente è stata una scelta deliberata ritenendo che dovesse essere il contratto nazionale a eh far fronte alla situazione. Gli interventi, il valore economico degli interventi si è ehm nella metà dei casi è stato in in inferiore ai cinquecento euro per persona su base annua ma nel venti per cento dei casi ha superato i mille euro. I canali attraverso i quali questi interventi si sono esplicitati eh sono eh quelli degli aumenti di merito, più frequentemente erogazioni in una tantum eh più rari sono stati interventi estemporanei come a conti sui futuri aumenti assorbibili piuttosto che erogazioni in via eccezionale di mensilità aggiuntive. Qualche azienda ha concesso prestiti agevolati ai dipendenti ma il principale strumento utilizzato dalle aziende è stato quello del welfare aziendale che si sta eh rivelando una leva di politica retributiva molto efficace e sostenibile per le aziende. A questo ha sicuramente contribuito la decisione del governo di eh innalzare la soglia ehm di esenzione dei eh fringe benefit. Peccato che questo sia avvenuto con tempi non particolarmente congrui dal momento che un terzo delle aziende che ha partecipato ci dice di non averne potuto usufruire o perché il budget era già stato speso al momento del provvedimento o perché mancavano i tempi necessari per modificare gli strumenti già messi in atto. Eh eh ricordiamo che nel corso del venti del duemila e ventidue il governo è intervenuto eh a più riprese a marzo con i eh buoni carburante per duecento euro ad agosto eh con la defiscalizzazione fino a seicento euro delle bollette l' innalzamento della soglia di esenzione è di novembre quindi con pochissimo tempo a disposizione per le aziende. Diciamo che il provvedimento ha avuto se non altro il merito di richiamare l'attenzione su l'inadeguatezza di una soglia attuale duecentocinquantotto euro e ventitré centesimi che eh ormai vecchia di venticinque anni risalendo al millenovecentonovantotto ma che se volessimo semplicemente fare una rivalutazione monetaria dovrebbe essere come minimo pari a quattrocentoventi euro e abbiamo fatti chiesto ai responsabili del personale quale fosse il una soglia mh funzionale alle politiche eh retributive e eh nel novantacinque per cento dei casi ci sono stati infatti indicati importi più alti dei quattrocentoventi con valori medi che si avvicinano molto ai mille trecento euro anche se la maggior parte delle indicazioni si colloca tra i seicento e i mille. Un altro tema eh di oggetto di dibattito è quello del ricambio generazionale. Sappiamo che l'Italia e eh molti altri paesi occidentali sono le prese con un forte processo di invecchiamento della popolazione della forza lavoro abbiamo voluto verificare in che misura questo di questo fenomeno eh diciamo eh impattasse sulle nostre aziende e in effetti il trenta per cento quasi il trenta per cento di loro dice di essere eh alle eh prese con questo con questo problema in particolare le le imprese di medio grandi dimensioni e quelle del manifatturiero. Quali sono eh i gli strumenti per gestire il ricambio generazionale? Beh tra i canali di uscita il più utilizzato è quello dell' incettivazione all'esodo e della contribuzione volontaria più raramente eh il sistema diciamo le le i prepensionamenti mentre ancora marginale è il ricorso a isopensione e contratto di espansione. Quanto ai canali in entrata per i giovani abbiamo principalmente il contratto a termine il quello di apprendistato la somministrazione a termine interinale ma un crescente interesse stanno suscitando le assunzioni a tempo indeterminato con decontribuzione che sono state segnalate dal trenta per cento delle aziende che hanno eh collaborato. Il tema del ricambio generazionale è strettamente connesso al fenomeno della difficoltà di assunzione che è segnalato da molte nostre aziende associate ed è un fenomeno che è eh monitorato periodicamente e con ampio dettaglio geografico dall'indagine Excelsior del sistema delle camere di commercio. Eh vediamo che eh i dati provinciali eh sul territorio che stiamo analizzando evidenziano eh una situazione molto diversificata. Si va dal trentasette per cento dei candidati introvabili a Milano al cinquantadue per cento a Pordenone e in effetti le aziende che hanno partecipato all'indagine eh confermano queste difficoltà. Abbiamo esaminato le le quelle con eh ricerche aperte quindi l'ottanta per cento di chi ha risposto. Tra queste il settanta per cento eh dice di avere avuto difficoltà eh di di trovarsi in difficoltà. Quindi è un fenomeno che impatta su quasi la metà su più della metà delle aziende eh delle nostre aziende. Nel trenta per cento dei casi queste aziende ci dicono che si tratta di eh difficoltà generali e trasversali ma nel quarantasette per cento quindi quasi la metà del totale i i problemi sono specifici sulle mansioni tecniche e manuali e questo conferma quanto Confindustria eh va affermando da tempo in più sedi ovvero della necessità di rafforzare l' orientamento e la formazione professionalizzante. Come le aziende eh diciamo fanno fronte alla situazione eh coinvolgendo e il sistema formativo ricorrendo a servizi esterni di eh recruiting allargando il bacino di ricerca a volte anche ad altri paesi ma la principale eh leva utilizzata è quella della formazione interna eh attraverso la quale si sviluppano nel proprio personale le competenze che non si trovano all'esterno e queste ehm diciamo eh azioni sono eh risultate più diffuse proprio nelle aziende con eh in difficoltà quindi si tratta di leve considerate efficaci. Uno degli strumenti eh più eh diciamo efficaci per attirare risorse è lo smart working e eh uno e e abbiamo quindi voluto verificare i vantaggi e gli svantaggi di questa modalità organizzativa eh sempre più diffusa tra le nostre aziende considerando che più della metà di chi ha partecipato all'indagine dice di avere almeno un lavoratore da eh remoto abbiamo voluto verificare quali sono i eh vantaggi e gli svantaggi di questa modalità organizzativa effettivamente veramente sperimentati da chi eh ha introdotto l'ha introdotto. Ci siamo focalizzati su vantaggi e svantaggi per l'azienda. In questo caso non abbiamo considerato quelli per il lavoratore, classica conciliazione degli dei tempi di vita e di lavoro. Tra chi ha introdotto lo smart working tre su quattro ci dicono che hanno avuto almeno hanno sperimentato almeno un vantaggio e il più eh citato è proprio quella della eh capacità di attrarre e fidelizzare risorse umane. Eh molte segnalazioni sono anche eh relative alla riduzione dell'assenteismo sperimentato eh a seguito di questa decisione. Viene poi eh segnalato un aumento della produttività, un miglioramento dell'efficienza energetica, mentre la riduzione dei costi aziendali legati all'efficientamento degli spazi è una ehm una situazione più ehm meno frequente. Le aziende che avendo introdotto lo smart working segnalano almeno uno svantaggio sono di meno il trenta per trenta per cento e se escludiamo quelle che eh segnalano un eh vantaggio almeno un vantaggio a controbilanciare questi svantaggi si riducono veramente a molto poche. Quali sono i principali svantaggi segnalati eh l'ostacolo alla comunicazione eh la miglior senso di appartenenza e un conflitto tra elegibili e non che è probabilmente un problema sottovalutato. Nella edizione dello scorso anno dell'indagine in cui chiedevamo a tutte le aziende anche quelle che si apprestavano a introdurre eh o stavano valutando la cosa eh i possibili rischi il conflitto tra elegibili e non era segnalato veramente in pochissimi casi. Evidentemente passando dalla teoria alla pratica il il problema emerge più chiaramente. Concludo con l'elenco dei eh referenti di ogni associazione innanzitutto per ringraziarli ma eh anche per mettere a vostra disposizione i loro riferimenti eh da oggi pomeriggio eh ogni associazione eh sarà in grado di mettervi a disposizione il rapporto mh del del proprio territorio eh cosa che eh già a disposizione di chi ha partecipato all'indagine a cui l'abbiamo dato in anteprima e da oggi pomeriggio lo sarà per tutti. Grazie. 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 Ora abbiamo diciamo ci diamo circa quaranta minuti per un dialogo con eh con i nostri relatori ehm al termine di questi quaranta minuti diamo anche uno spazio per le domande e risposte per cui invito chi ci sta ascoltando eventualmente a segnalarle nello spazio eh Q&A e saranno appunto girate ai relatori. Ehm dunque par abbiamo i temi in campo sono numerosi. Abbiamo qui con noi Massimilio SPI eh HR di SEAS a duemila e quattrocento dipendenti di cui circa due terzi lavorano su turni un terzo nelle funzioni di staff ed è la società che tutti conosciamo degli aeroporti eh milanesi del comprensorio allargato a malpensa ovviamente. Poi eh Federico Clemente di Itema Group che è un'azienda del settore eh della meccanica produce mi corregga se sbaglio apparecchiature per ehm per il tessile per il settore tessile e da mille cinquecento dipendenti in Val Seriana e e poi abbiamo Paolo Riggi di Danone SPA Danone SPA non ha bisogno di grandi presentazioni direi che è la multinazionale eh che tutti conosciamo e poi Ilaria Rasulo di Amtares Vision che invece è collegata eh con noi online. Parliamo di un'azienda che si che produce sistemi di controllo qualità sostanzialmente sulle linee di produzione da mille trecento dipendenti nel mondo di cui eh seicento in Italia con varie sedi in Italia. Eh bene allora io se siete d'accordo mi porrei insieme a voi un obiettivo ambizioso che è quello di provare a fare tre giri di tavolo in questo eh poco tempo che abbiamo quindi proviamo ad andare al sodo delle questioni su su tre punti fondamentali della ricerca eh che sono il primo quello dell'attrarre trattenere i talenti che sta diventando rapidamente il problema numero uno per le imprese poi il tema lo smart working mi è sembrato come dire qui sviscerato in maniera interessante però i contri per le aziende e mi piacerebbe sentire cosa ne pensate e poi tutta la questione retributiva che invece visto vista la questione del lavoro dal punto di vista dei dipendenti è chiaro che per i dipendenti in una fase storica con un'inflazione così alta la questione retributiva del salario reale diventa diventa centrale. Bene allora per cominciare trattenere e i dipendenti e attrarli è un problema nelle vostre aziende uno e se sì che cosa ritenete che sia o provate che sia più efficace per riuscire a raggiungere eh l'obiettivo ma io direi proviamo da Clemente, Crespi e Origi e poi andiamo online a Ilaria Rasulo che intanto ci ascolta. Allora buongiorno eh intanto ringrazio per la per l'invito e per vorrei complimentarmi per l'ottimo lavoro della ricerca che mi è sembrato veramente molto interessante e almeno io ne ho fatto un uso di benchmarking personale per la mia azienda che è sicuramente molto molto utile quindi invito chi ci sta ascoltando a prendere visione dei dati perché sono molto molto interessanti. È un problema l'attraction e la retention delle persone? Sì eh nel senso che in questi ultimi anni abbiamo stiamo vivendo un un'ondata importante di eh richiesta crescita di fabbisogno di competenze sia tecniche che manuali ma non solo eh abbiamo un inverno demografico che si comincia a sentire e quindi le persone sono poche in particolare alcuni territori noi lavoriamo appunto provincia di Bergamo, Valseriana quindi eh un territorio fortemente manifatturiero che sente fortissima questa questa problematica soprattutto sulle competenze di tipo tecnico. eh perché sono poche le risorse eh rispetto a una domanda che è sempre crescente ed è sempre crescente non solo in numero ma anche in qualità delle competenze che si che si cercano eh perché il sistema manifatturiero sta affrontando appunto quelle sfide che ricordava prima il direttore che sono quelle delle diverse transizioni a cui aggiungo quella di una transizione profonda credo sociale e culturale che richiede anche un approccio una modalità di gestione delle persone e di eh capacità delle persone di porsi rispetto al lavoro che sta cambiando velocemente e di cui le aziende devono tenere conto e questo è un ulteriore elemento che rende complessa la così la difficoltà rende complesso trovare le persone giuste con le competenze che possono consentire le aziende di affrontare questa questa transizione. in un territorio circoscritto. Noi poi abbiamo lo svantaggio logistico del territorio ripeto un po' perché c'è una forte competizione su un territorio molto industrializzato con aziende che hanno successo nel mercato che sono molto internazionalizzate quindi per carità per fortuna per un verso siamo contenti di essere lì eh per altro però è chiaro che aumenta anche la competizione territoriale purtroppo le risorse sono poche quindi tendiamo anche a rubarcele tra di noi ma in maniera molto molto diretta ma perché il tema è molto sentito e sicuramente le competenze stanno cambiando e abbiamo un problema di costruire queste competenze. Ma e come come c'è? C'è qualche strumento? Direi che la ricerca le ha evidenziati bene tutti e quindi anche noi applichiamo un po' tutti gli strumenti anzi direi questo è necessario avere una una modalità di affrontare la tematica su più fronti con più strumenti non non ce n'è uno solo quindi costruire buone relazioni con il sistema della formazione territoriale scolastico universitario la promozione degli ITS che a Bergamo si sta cercando realizzare ma credo in tutte le territoriali del centro nord sicuramente gli ITS sono una delle scommesse sul quale il sistema industriale sta cercando una soluzione e sta investendo parecchio e credo sia necessario questa questa strada ma non basta solo la formazione interna sappiamo benissimo negli ultimi anni tutte le aziende abbiamo un po' nobilitato la formazione interna parlando delle academy percorsi che una volta nei percorsi di attraction che avevano soltanto le grandi aziende adesso sono diffuse direi a tutti i livelli anche nelle aziende medio piccole che io vedo nel territorio bergamasco i nostri fornitori tantissimi hanno queste academy interne nel quali cercano di con le quali cercano di formarsi all'interno del personale e cercano di attrarlo come strumento proprio di valorizzazione del proprio percorso interno ma non basta anche questo ci vuole la capacità di conoscere le proprie persone quindi la capacità di retribuirle premiarle nella maniera corretta insomma per affrontare questa tematica l'azienda deve darsi un sistema di strumenti il più possibile coordinati tra di loro ma mi sembra che la ricerca abbia evidenziato proprio la necessità di mettere insieme più più fattori ecco purtroppo credo che nonostante tutto questo facciamo i conti col numero delle risorse che purtroppo è basso siamo andati recentemente per assumere ingegneri non li assumiamo più a Bergamo di fatto che non ci sono dobbiamo andare in altri territori e mentre nel passato questo in qualche modo era più facile anche questo oggi ti comincia a diventare più complesso quindi devi mettere da parte i fondi per trovargli la casa insomma comincia a diventare interessante e sfidante anche questo elemento. Crespi come va in SEA? È venuto fuori anche il tema del lavoro manuale e e anche questo è interessante perché c'è spesso anche noi sui giornali diciamo sono tutte le professioni tecniche super esperti però ho capito che c'è anche questo questo problema. Sì no confermo cioè il mercato del lavoro è impazzito si è ristretto c'è ovviamente il fenomeno del calo demografico che se parliamo di laureati è iniziato 22 23 anni fa quindi non è un fatto recente no però noi demografi di lato sono affrontano temi appassionanti siamo abituati poco poco a seguirli. Il mercato è impazzito è diventato più ristretto l'industria del trasporto aero che va guardata a livello mondo perché non era non è possibile racchiudere in confini geografici ha una ha due complessità ulteriore no? Cioè la pandemia ha fatto capire che quel mondo lì ha saputo difendere un po' meno le proprie persone non tanto in Italia dove il sistema di ammortizzatori sociali ha assolutamente tenuto noi abbiamo in Italia una bella tradizione di strumenti di gestione della crisi però voi come passeggeri l'anno scorso in girando per il mondo in particolare in Europa del Nord avete trovato una capacità rapportuale limitata per mancanza di persone perché i licenziamenti sono stati fatti in massa e oggi c'è la difficoltà di fatto a ricostituire la forza lavoro e le persone fanno memoria di quello quindi quando devono scegliere dei settori cominciano a pensare ad andare attorno. La seconda cosa è il tema della sostenibilità che soprattutto sulle generazioni più giovani influisce e l'industria del trasporto aero non nonostante abbia un peso dicono le statistiche relativo rispetto al tema del cambiamento climatico lo riassumo così è in realtà considerata uno dei settori maggiormente penalizzati tant'è vero che per esempio nei fondi del PNR è stata completamente esclusa no meno originariamente quindi c'è questo effetto cosa stiamo facendo cosa abbiamo fatto abbiamo cercato di lavorare molto sull'employer branding sapendo che non c'è uno strumento killer no che possa aiutare quindi rapporto con le scuole del territorio notevolmente rinforzato visite in aeroporto di tutti i docenti degli istituti professionali noi per l'anno 23 24 metteremo a disposizione delle aule in aeroporto per un importante istituto professionale del territorio che farà a questo punto le proprie lezioni in aeroporto questo darà la possibilità alla nostra accademia i nostri e i nostri teacher di intervenire poi in questi percorsi di formazione per dare un contributo in termini di orientamento e di competenze tanto scoperto un mondo della scuola molto aperto alle contaminazioni dal privato diversamente dall'idea che fino a qualche anno fa qualche anno fa avevo non c'è una soluzione vincente non c'è sul lavoro sul lavoro manuale quindi sugli istituti professionali non c'è naturalmente nel coltivare i rapporti che abbiamo con con tutte le università però in aeroporto c'è una specificità ulteriore cioè l'employer branding non può essere limitato a una singola azienda cioè negli aeroporti lei trova 450 attività diverse e censite certo ma pensa oggi ritornato un po' i livelli pre covid ha diciamo 20.000 persone abilitate ad entrare no nell'attività tra attività diretta appaltatore eccetera l'inate ne ha 10.000 ecco in un mondo così uno deve cercare di fare l'employer branding di un aeroporto che è una città dei mestieri e questo è una sfida in più molto bella però è anche più complicata per questo diciamo che le iniziative degli ultimi due anni hanno hanno messo insieme una serie di aziende importanti del food del retail del cargo e quindi tutti questi rapporti con le scuole i career day che facciamo in aeroporto i welcome day oggi danno un'immagine di una città dei mestieri con più aziende che ci stanno provando si semina vedremo secondo me è un investimento assolutamente sensato e che penso anche in tempi più brevi di quelli che pensiamo darà un ritorno quindi avete una in quell'area quindi anche quella è una strada danone danone invece ha come dire una storia un lungo lavoro rispetto al personale al modo di trattenere il personale ci racconta un po' le cose che ritenete più efficaci o che dove avete visto dei risultati per l'opportunità e per la ricerca che ha dato tante conferme anche qualche spunto di lavoro che per noi sarà importante nei nei prossimi mesi allora io affronto la tematica da un punto di vista diverso nel senso che le nostre persone che noi chiamiamo danoners quindi cominciamo a mettere un elemento distintivo proprio all'interno del nostro contesto è costituita principalmente da figure di sede e figure commerciali o di relazione con il mondo della salute che operano su tutto il territorio nazionale ecco quindi viviamo il problema dell'attrazione o l'opportunità dell'attrazione e del trattenere i talenti in questo in questo contesto eh cosa abbiamo cosa abbiamo registrato muovendoci sul mercato abbiamo registrato che le richieste e le necessità delle nuove generazioni della generazione Z in particolare sono diverse da quelle che erano le nostre richieste o dei nostri colleghi più anziani ecco l'azienda è un organismo dove devono convivere persone di di età diverse l'inclusione no è un pochettino al al alla base di tutto noi dobbiamo trovare il modo per essere per essere presenti ed attrattivi in termini di attrattività abbiamo visto che vince eh avere una cultura distintiva quindi avere dei valori e comunicarli comunicarli in maniera molto chiara ehm da una nutrici a una società benefit appartiene al mondo delle B Corp quindi è un'azienda che fa comunque della propria mission e dei propri valori anche un elemento di comunicazione ma si vede la differenza cioè per un candidato che nel momento in cui uno gli specifica che questa società ha questi valori che notate che in effetti diventa più interessante a parità di retribuzione assolutamente i trattamenti io vado tante volte nelle università no a raccontare ai ragazzi un pochettino qual è il nostro mondo del lavoro ad esempio una cosa che ci sta molto a cuore no è la parità di genere l'inclusione no quando io ho raccontato un'ultima volta che ad esempio il nostro tasso di promozione di colleghi in maternità è del sessanta per cento o che nessuna lavoratrice ha mai rassegnato le dimissioni al rientro eh dalla maternità mi rendo conto che le persone di fronte a me si si stupiscono ecco andiamo quindi a comunicare su un ambiente di di valori di di contenuto che però deve essere ovviamente associato a quelle che sono le esperienze e il riconoscimento che poi le persone hanno bisogno di ricevere sul sul mondo del lavoro se poi passo dall'attrazione al trattenere i talenti anche qua a me piace essere numerico settanta per cento è il tasso di promozione interna cosa vuol dire vuol dire che si crea un contesto per il quale le persone possano crescere all'interno dell'organizzazione andare in questa maniera a soddisfare eh le proprie aspirazioni di di crescita ecco quindi forse l'elemento più difficile è andare a creare questo giusto bilanciamento fra interno ed esterno fra crescita esterna e la capacità di attingere eh al mondo esterno e mh credo che comunicare le condizioni comunicare i percorsi di crescita mettere a disposizione ambienti inclusivi dove ciascuno di noi con la propria individualità può trovare una risposta alle proprie esigenze eh insomma lavorare su quella che si può chiamare attenzione e cura siano delle risposte che possono aiutare molto eh è molto personalizzato il percorso grazie ci ha messo due elementi in più cioè dare rassicurazioni sul fatto che si può evolvere e e poi il tema dei valori che comunque di per sé cioè c'è una dimensione valoriale che in ogni caso chi si candida considera sentiamo allora anche Ilaria Rasulo che è in collegamento eh come dire abbiamo già messo sul tavolo un sacco di cose mi cioè non è è complesso perché alla fine aggiungerne di nuove però ci può dire magari quali sono i punti che sono risultati più assolutamente sì allora intanto in realtà è un vantaggio perché è così insomma è stato detto quasi quasi tutto e posso non posso far altro che confermare Antares è un'azienda Antares Vision Group è un'azienda giovane noi siamo stati fondati nel duemilasette e ad oggi tramite anche le acquisizioni siamo arrivati a mille trecento diciamo che fino all'intervento del dottore Origi avevo delle cose in più da dire che erano proprio quelle collegate ai valori e alla cultura aziendale noi puntiamo tantissimo in nella nel far far respirare le persone quello che è il nostro clima aziendale perché riteniamo che ci sia un'autenticità delle relazioni molto importanti noi nasciamo come headquarter a Brescia quindi abbiamo esattamente tutte le ehm insomma criticità che sono state raccontate noi utilizziamo eh lo smart working ancora prima della pandemia perché comunque la nostra azienda è un'azienda dove le competenze sono principalmente eh quelle di di sviluppo software e di sviluppo di tecnologia quindi ovviamente si adatta molto bene ad un lavoro remoto eh anche noi abbiamo un grandissimo tasso di promozioni di eh femminili tanto che addirittura era tra gli obiettivi del nostro board nella politica di remunerazione proprio andare a colmare quello che poteva essere un un gender gap che per oggi abbiamo anche proprio a causa del fatto che non troviamo tante donne che fanno dei percorsi eh di lauree STEM e quindi stiamo andando stiamo lavorando tantissimo con le università facciamo orientamento anche nelle scuole medie quindi la nostra direzione HR le le colleghe fanno anche eh oltre ai tutti i career day che che ci sono all'interno delle università ma cerchiamo di andare anche proprio nel territorio per farci conoscere per far capire quello che facciamo cerchiamo di creare un ambiente il più inclusivo possibile ma che dia anche la possibilità di spaziare e soprattutto abbiamo una grande attenzione alla salute delle persone quindi cerchiamo di essere anche un ambiente di lavoro che promuove la salute questo è molto apprezzato soprattutto dai candidati più giovani eh prima faceva proprio la la domanda se questo viene notato a dire il vero a noi viene anche richiesto in fase di eh proprio di selezione cioè ci chiedono che cosa fate per promuovere la salute abbiamo proprio dei candidati estremamente interessati a capire questo quindi abbiamo eh un un gruppo sportivo all'interno della nostra associazione sportiva abbiamo anche un'associazione culturale per dire quindi insomma mensani che incorpore sano ma ovviamente anche per per la mente quindi facciamo delle serate peraltro eh dalla prossima settimana inizierà quello che è il nostro festival all'interno che parlerà proprio di connessioni quindi cerchiamo di distinguerci da questo punto di vista poi non posso che confermare tutto quello che hanno detto i colleghi fino al al mio intervento quindi lavoriamo tanto su questo eh assumiamo anche prima oltre alle promozioni anche delle persone insomma delle delle donne in maternità assumiamo donne che hanno figli eh io sono arrivata in Antares nel duemiladiciannove con a seguito due gemelle di sei anni quindi insomma diciamo che questa domanda non mi è neanche stata fatta anzi è stato considerato un plus perché in realtà c'è una grande cultura con con consideriamo la maternità il fatto che le nostre persone maternità genitorialità in generale un punto importante vuol dire che stanno bene sono sicuri hanno famiglia e quindi ovviamente tutto questo lo teniamo in considerazione nelle nostre politiche retributive dove facciamo il benchmark su su tutte le nostre posizioni quindi davvero cerchiamo di fare del nostro meglio così come come i colleghi grazie comunque anche da parte mia per l'analisi veramente molto molto interessante bene grazie io eh farei se siete d'accordo un giro sullo tema smart smart working ma veramente molto molto rapido per poi tenerci un po' di tempo per ragionare sulle retribuzioni e la domanda facciamo proviamo con una domanda secca cioè serve lo fate a casa vostra serve e mi incuriosiva questo tema del contrasto interno che si può creare e io mi faccio anche una domanda adesso con questa normativa che ha prolungato ancora per tutto il 2023 lo smart working per quelli che hanno i figli sotto i 14 anni correggetemi se sbaglio però non è che magari in azienda può esserci una una tensione anche su quello c'è quelli che i figli non ce li hanno non lo possono fare se non c'è l'accordo aziendale mentre invece gli altri lo possono fare però veramente una battuta compatibilmente con con i tempi eh Federico Clemente allora cerco di essere velocissimo sì lo utilizziamo abbiamo imparato ad utilizzarlo stiamo ancora imparando a utilizzarlo perché è arrivata anche da noi l'onda con la pandemia se abbiamo prima rincorso adesso cerchiamo di sfruttare lo strumento il meglio che riusciamo eh ormai abbastanza diffuso devo dire su tutta la popolazione impiegatizio l'abbiamo regolamentato con tutti e quindi la possibilità esiste serve dire di sì viene richiesto ormai fa parte del modo di lavorare da parte nostra stiamo cercando veramente di utilizzarlo per quello che può dare in termini di nuovo rapporto tra azienda e dipendente il tema della responsabilizzazione del lavorare veramente su quello che c'è da fare e non solo sulla quantità però ripeto è un altro di dei tasselli di quel sistema complessivo di gestione delle persone che lavorano all'interno dell'organizzazione che devono essere tenuti presenti è arrivato cerchiamo di imparare nell'utilizzo grazie Crespi sì l'abbiamo introdotto nel duemila e diciotto quindi prima della pandemia e l'abbiamo fatto con un regolamento unilaterale eh l'abbiamo fatto perché pensavamo che lo smart working avesse dietro il remote working in realtà avesse dietro un tema di restituzione di spazi di autonomia alle persone io sono abbastanza ho un approccio abbastanza laico no perché queste sono anche le mode ichar no che cambiano nel giro degli anni sono smart working secondo me sta già scalando in senso però eh diciamo che lo smart working è un buon agente sabotatore nelle imprese che hanno ancora un po' troppa gerarchia dove l'organizzazione formale prevale su quella su quella informale dove c'è ancora un po' la cultura del capo allora lo smart working serve per creare un po' di casino dentro di no e e questo è un trend che le aziende hanno eh diciamo hanno iniziato diventa una forma di attraction fondamentale no oggi anche i temi della diversità che citavano i colleghi sono oggi temi che che in realtà non non si dovrebbe neanche più parlare perché sono talmente ovvi no noi abbiamo quintuplicato eh le assunzioni di under 30 negli ultimi due anni e il 60 per cento sono 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 donne quindi sul tema della diversità di genere abbiamo un 38 per cento di donne manager e il nostro piano di sostenibilità dice che al 2030 dobbiamo arrivare al 50 per cento però questi sono sono ovviamente temi sono master che che si hanno lo smart working entra in quell'ambito è curioso che un neore ingegnere perché in realtà devi imparare a lavorare e quindi con lo smart working il tema della presenza no anche fisica in azienda è abbastanza significativo però insomma è questo si fa quello che diceva lei bisogna avere uno sguardo bifocale cioè se lei ha 800 persone che lavorano in ufficio cioè 2400 che lavorano a ciclo continuo il problema della gestione del personale va in qualche modo va in qualche modo trato e siccome nella testa delle aziende lo smart working è una misura organizzativa ma nella testa delle persone è una misura di work life balance allora a questo punto anche i turnisti si aspettano che ci siano misure in qualche modo di quel tipo e qui entra tutto un altro ambito che attiene per esempio alla capacità di introdurre flessibilità massima nella gestione dei turni per mansioni fungibili insomma uno strumento che possa garantire la stessa possibilità interessante e da voi in Danone se non sbaglio bisogna essere presenti almeno un giorno alla settimana giusto? 20% del 20% del tempo e allora mi chiedevo in particolare per voi il tema può diventare mantenere il senso di appartenenza delle persone proprio perché qualcuno magari viene proprio una volta solo alla settimana? Allora sì collego velocissimamente a quello che ha detto il collega prima di me lo smart working ha distrutto il presenzialismo in Italia che era uno dei mali della nostra della nostra cultura da noi c'è dal 2017 è nato come concertato e condiviso quindi in un percorso di negoziazione fra azienda lavoratori con il coinvolgimento delle parti sociali con qualche cosa di molto naturale è stato la ragione che ci ha consentito di andare avanti durante durante la pandemia e cosa registriamo adesso? Noi siamo arrivati a questo accordo che noi chiamiamo digital perché è una combinazione fra mondo fisico e mondo digitale no? Che ormai convivono non ha più senso parlare di presenza e di remoto ma bisogna cercare no queste soluzioni ibride il 20% del tempo mese è un indicatore che ci siamo dati insieme alle nostre parti sociali per provare a dare un minimo di regole ovviamente a un qualche cosa che se no si è lasciato andare rischia di portare verso quello che lei giustamente diceva questo isolamento no? Questa perdita della dimensione collettiva e della dimensione sociale. Cosa abbiamo però registrato guardando proprio i numeri che da quando si è rieperto in realtà le persone tornano naturalmente c'è una sorta di ritorno naturale in ufficio con una nuova dinamica di lavoro che magari non guarda più l'ora di inizio, l'ora di fine, il giorno di presenza e quant'altro ma è fortemente concentrata su performance, stabilizzazione, raggiungimento degli obiettivi. Ecco quindi bisogna sempre eh tenere gli occhi aperti, bisogna sempre misurare, noi lo facciamo periodicamente, guardiamo i numeri, ci confrontiamo con i sindacati, andiamo a vedere un pochettino quali sono i rischi e quali sono i vantaggi in maniera tale da poter governare questa nuova modalità organizzativa dalla quale non si può prescindere. Collegandomi al punto di prima, i candidati lo chiedono se si può fare smart working e se la risposta è no, fermano, non vanno avanti nel processo di selezione. Ecco quindi è una posizione. Bisogna farci necessariamente i conti ed è un realmente un'opportunità. Grazie. Grazie. Origi invece, eh Rasulo, scusate Rasulo che ci... Sono qua certo, sì sì, come come vi anticipavo, eh lo smart working è una realtà anche per noi da prima della pandemia, quindi sicuramente eh l'azienda si era già apposta in questo concetto di flessibilità, ma in generale il concetto di flessibilità fa parte della dell'organizzazione perché comunque andiamo a lavorare proprio sul concetto di obiettivi. Anche in questo caso eh confermo quello che che ha detto il dottor Origi nel senso che anche da noi adesso la cosa molto interessante è che sicuramente ci chiedono di poter fare smart working, ma le persone al di là degli accordi di smart working che comunque abbiamo deciso di di fare per ogni persona vengono in presenza ancora più senza considerare proprio il loro accordo di smart working, quindi sicuramente è una misura anche di eh sostegno per l'organizzazione, però c'è c'è anche una grande partecipazione, una grande volontà di stare insieme e quindi questo è ci siamo trovati a disciplinare semplicemente qualcosa per andare a dichiarare che lavoriamo su obiettivi e quindi ciò che è importante è il raggiungimento dei nostri target e delle performance e in questo senso è vero i candidati lo chiedono eh ma poi lo stesso candidato che magari ci ha chiesto di poter fare smart working è quello che poi non lo fa praticamente perché poi gli piace molto, si appassiona, è il caso proprio del giovane ingegnere che deve che deve imparare e quindi davvero c'è eh questa questa tensione. Sicuramente oggi è un requisito distintivo, lo chiedono e lo scelgono. Qui alla fine insomma la gente viene in azienda però vuole sapere che ha quella possibilità. Esatto. In emergenza può utilizzare quello. Bene allora abbiamo una decina di minuti che sono pochi però abbiamo anche un tema importante che è quello della remunerazione. Ehm e allora sappiamo sappiamo tutti che il tema in una fase storica in cui abbiamo avuto l'otto e rotti per cento di di inflazione l'anno scorso e quest'anno si parla del cinque e mezzo, sei e mezzo. Ehm come si affronta questo questa questa sfida compatibilmente ovviamente con gli equilibri dei conti perché poi da quello da quello non si può prescindere. L'indagine ci ha parlato molto di welfare e ci ha parlato molto di fringe benefit e quindi cosa ne io deduco il tema è eh avere la possibilità di dargli aumenti possibilmente dei tassati e dei contribuiti che pesino nelle tasche della gente e non troppo in quelle delle aziende. Cosa fate a casa vostra e come interpretate i dati che abbiamo visto? Partendo al solito da Clemente. E a me tocca cominciare sempre per primo quindi e io rispondo sempre allo stesso modo anche per le politiche retributive. È un mix di strumenti eh più riesci a definirli a renderli equilibrati tra di loro omogenei tra di loro più puoi tentare di affrontare la risposta che ti sembra giusta per poter anche qui gestire il miglior modo per se forse le persone. Bene perché tipo l'anno scorso è stato l'anno in cui sono stati messi 200 euro poi dopo sono stati fatti salire e scendere a novembre. Perché lei mi vuole male mi vuole far parlare di questa cosa io qui posso dire soltanto che abbiamo visto prima la slide mettiamola così il buono è stato il tentativo in corsa di cercare soluzioni che consentissero in qualche modo di retribuire in mania più pesante eh le persone e quindi avessero più disponibilità diciamo economica eh però come azienda noi non possiamo soltanto limitarci a rincorrere dietro a eh gli interventi normativi che possono essere più o meno armonici o più o meno estemporanei. Ci prendiamo lo spunto e poi cerchiamo di ordinare e regolamentare la la materia. E anche qui ritorno. Importantissimo il welfare sicuramente questo per noi è stato come nella maggior parte delle aziende come ho come ho visto della ricerca aver avuto la possibilità di introdurre un sistema di welfare in qualche modo regolamentato, disciplinato, ordinato con un paniere di servizi disponibili ci ha consentito poi di sfruttare al meglio eh gli interventi diciamo di estemporanei e di corsa che sono arrivati da appunto l'avete già. Esatto questo ha consentito in qualche modo di veicolare eh attraverso il welfare aziendale le novità normative che via via si eh si si introducevano e ci ha consentito di mantenere come dire non omogeneità nel sistema della gestione delle politiche retributive perché secondo me questo è l'altro elemento. Ovviamente non basta solo il welfare. Ripeto se eh parliamo con personale che ha competenze tecniche, giovani eh con un mercato del lavoro impazzito, dinamico eh devi trovare il modo di retribuire premiare, il sistema premiale aziendale deve tenere conto anche delle individualità e quindi devi creare il sistema eh quello che una volta si chiamava l'MBO adesso il sistema premiale con le aziende avrà il suo che va magari in maniera più individualizzata sulle competenze sugli obiettivi. Eh la contrattazione di secondo livello per noi siamo manifatturieri quindi comunque abbiamo una abbiamo stabilimenti produttivi e quindi la parte industriale la la popolazione aziendale eh direttamente coinvolta nella produzione la gestisce almeno la gestiamo ancora e secondo me con con nella maniera corretta attraverso accordi di secondo livello col premio di risultato collegato. Insomma gli strumenti devono essere diversi e devono essere e ripeto il più possibili armonici. Chiaro questo momento abbiamo affrontato ma credo tutte le aziende con un mercato del lavoro eh davvero impazzito un tema di eh incremento delle politiche di un incremento dei costi che prima o poi doveva trovare un minimo di equilibrio proprio sulla sostenibilità economica perché poi eh l'aumento non riesce a riversarlo tutto ovviamente sul prodotto e sul cliente però la leva ecco devo dire fortunatamente almeno nel nostro caso eh la leva da la gestione delle persone l'importanza di gestire in maniera corretta le persone in questo momento almeno la al mio mestiere eh consente di avere qualche agio in più nella gestione della politica attributiva eh magari in altri momenti in altri contesti era era vero il contrario quindi in questo momento abbiamo forse un po' più di margine perché tutti siamo consapevoli delle dinamiche che che ci sono intorno alla gestione del personale l'importante è costruire un sistema articolato e equilibrato degli strumenti. Sì e non estemporaneo e poi comunque il welfare importante eh come qual è la visione in sé a che è un settore che tra l'altro negli anni cioè ora sta ripartendo però ha avuto una fase decisamente complessa. Allora io penso che adesso la chiamo questione salariale perché siamo in casa di Confindustria la chiamo con i termini che abbiamo imparato a mia generazione ha imparato esatto. Allora io penso che sia la questione centrale adesso anche sui temi dell'attraction e della retention che dicevamo prima la retribuzione incide per il 60% nella mia esperienza no? È l'elemento fondamentale. Lei dice hai voglia a dire c'è anche lo smart work? No possiamo il tema è importante. No no questo ve lo dico con numeri alla mano nella nella nostra nella nostra esperienza. Tant'è vero che abbiamo cambiato rispetto a questa ricerca molto interessante e noi abbiamo un benchmark che ci dice per esempio che per i neolaureati in realtà noi oggi abbiamo un'offerta che è più competitiva di quanto è presente nella ricerca. A 12 mesi noi diamo un incremento del 9% della retribuzione rispetto mi pare al 4 e qualche cosa indicato. Dopo dobbiamo darlo anche dopo 24 mesi no? Poi è chiaro che la piazza di Milano è è un po' diversa però tema della retribuzione è fondamentale cioè le persone oggi nella mia esperienza cambiano ancora la ricerca della retribuzione. Prima si diceva uno poi vuole un aumento del 10 20 per cento adesso vuole un aumento del 30 del 35 per cento quello che stiamo registrando e la questione salariale è complicata perché ha 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 una serie a una serie di deve. Dunque dalla mia esperienza rapportuale che ormai ha qualche anno non mi ha mai fino adesso posto la questione salariale come numero uno e le do anche una lettura perché il settore guadagnava abbastanza e ridistribuiva e poi c'è questo tema delle attività a ciclo continuo dove la retribuzione è costruita molto su un mondo infinito di maggiorazioni e dove la possibilità data alle persone di organizzarsi di fare i turni di lavoro come vogliono noi abbiamo un'applicazione che consente alle persone con determinate regole tra mansioni fungibili di cambiare continuamente il turno di lavoro con colleghi fungibili abbiamo oltre un milione di cambi turno all'anno questo consentiva alle persone di costruirsi tra virgolette la propria retribuzione i momenti in cui ho bisogno di più momenti della vita che ho bisogno di più faccio turni un po più disagiati e guardano più questo sistema sta andando in crisi adesso ovviamente con i tassi di infrazione e quindi qual è se avessi per il 2024 ma non lo sono ancora un budget compatibile ok che cosa farei allora innanzitutto naturalmente investirei e cercherei di lavorare un po di più sui premi di risultato rendendoli più competitivi la seconda cosa è il mix full time part time in un aeroporto che ha un'attività diciamo che si svolge su 20 ore di lavoro sostanzialmente con turni che iniziano alle 4 e finiscono alle 23 24 non c'è ovviamente lo stesso andamento del traffico quindi le curve di presentazione di passeggeri del traffico sono costruite con blocchi di personale full time e blocco di personale part time il mix part time full time va rivisto perché oggi probabilmente part time a 30 ore settimanali non sono più competitivi e quindi la sfida è come aumentare l'orario di lavoro rendendo comunque non sono competitivi perché la gente dice guadagno con quello porto a casa troppo poco la gente fa fatica a lavorare sabato e la domenica la gente fa fatica a lavorare a turno chiaramente e quindi vogliono a questo punto che i salari siano più competitivi e mentre un full time dicevo ha bisogno di avere magari un intervento di contrattazione integrativa ulteriore rispetto a quella che abbiamo il part time la prima cosa che chiede è trasformami a full time secondo c'è il tema delle tipologie contrattuali ciascuno di noi utilizza se ha un rapporto onesto e sano con il lavoro flessibile no però usiamo un po di somministrazione sostanzialmente come periodo di prova in realtà più lungo no perché quello dei contratti nazionali non basta ecco i percorsi di stabilizzazione che abbiamo probabilmente devono essere accorciati quindi anche il senso delle persone di essere assunti a tempo indeterminato probabilmente dobbiamo ridurlo dai 24 mesi che avevamo in mente e e e farlo in questo caso accorciandolo accorciandolo un po e poi ci sono i sistemi di politica retributiva noi per gli under 35 abbiamo introdotto è la prima volta che lo facevo dei sistemi di retention bonus quindi alla persona dici senti tu sei qui sta imparando se ti impegni a star qui per i prossimi tre anni up front io ti do un retention bonus dal 10 al 22 per cento della tua ral ovviamente se vai di prima me lo restituisci che ovviamente non è una catena che tiene legata alla persona però il messaggio che manda è ti do un aumento retributivo ti sto dicendo che tu fai parte di una categoria distintiva i giovani non sono molto diversi da noi che siamo meno giovani cioè gli elementi la distinzione la cura delle persone il fatto ce l'hanno tutti quindi non vedo questo grande conflitto generazionale da questo punto però per esempio il retention bonus strumento che sto usando sono da un paio d'anni e sembra in qualche modo funzionare per le persone si sentono parte di un gruppo un po più distintivo cullati coppolati oltre ad avere anche qualche soldo qualche soldo in più però insomma cioè l'HR alla fine deve creare le infrastrutture deve inventarsi il più possibile poi le persone rimangono se capiscono che c'è in azienda una sfida intellettuale se c'è qualcuno che ti fa imparare e questa è una responsabilità che spetta che spetta poi i responsabili del team fondamentale grazie interessante anche il retention bonus origi allora provo ad aggiungere qualche cosa in contesti diversi e pur condividendo molte delle cose dette dai colleghi prima di me allora innanzitutto un approccio complessivo nelle aziende multinazionali si piace piace usare questa parola inglese no che è total reward ecco quindi la retribuzione comunque o il trattamento è fatto di tanti elementi di cui sicuramente il salario è un qualche cosa di fondamentale noi l'abbiamo declinato localmente con due parole noi ci piace un po' brandizzare le cose non abbiamo il marketing nel sangue probabilmente e il nostro programma si chiama talento e merito ecco quindi come far combinare queste due dimensioni quindi sostenere la crescita e lo sviluppo dei talenti e in in merito ecco quindi dare questa declinazione non solo di confronto col mercato di benchmark che tutte le multinazionali fanno ma inserire una componente meritocratica forte altro elemento passando dall'individuale al collettivo è il welfare eh noi ci crediamo noi abbiamo fatto il primo accordo collettivo di welfare nel duemila e undici quando era ancora agli arbori ho siglato proprio in questi uffici un paio di mesi fa il nostro contratto di secondo livello dove l'ammontare di welfare anno per ciascun lavoratore è salito a duemila e cinquecento euro quindi siamo io ho messo tremila euro ecco come richiesta nella nella survey perché perché è una modalità di andare incontro in maniera innovativa a quelle che sono le esigenze ehm delle persone è vero la normativa evolve alcuni tentativi sul French benefit sono arrivati tardi magari non hanno avuto i risultati sperati ma probabilmente questa è una linea su cui andare avanti porto sempre un altro numero a sostegno a sostegno di questo eh oltre a questo importo è possibile convertire il premio di risultato più del cinquanta per cento delle persone ha convertito anche il premio di risultato quindi vuol dire che mettere a disposizione delle persone un sistema di welfare avanzato con tante opzioni che va ad integrarsi con quello che è il welfare pubblico non è tanto il viaggio ma è quanto più l'assistenza la cura i figli i genitori malati ecco andrà studiato studiato bene esatto e avere un panel di la possibilità e su questo sicuramente le norme eh ci ci devono ci devono aiutare dando sempre eh più che più chiarezza e più fruibilità a questa tematica che è sicuramente molto importante ed è un reale strumento utile. Ok eh grazie Ilaria Rasulo ha le sue difficoltà clemente ma ce le anche lei perché deve chiudere un discorso già già avviato. Assolutamente però forse è più difficile per lui perché deve rompere il ghiaccio a parte gli scherzi diciamo che se devo sintetizzare credo che le persone restano se si sentono valorizzate incluse nel progetto quindi distintive per raggiungere gli obiettivi e ovviamente se percepiscono di essere ben pagate anche noi utilizziamo tutti gli strumenti che che sono stati citati abbiamo oggi ecco la differenza forse ehm che sicuramente oggi le nuove generazioni l'unica differenza che colgo è che te ne parlano molto apertamente quindi spesso mi capita di avere delle persone che si sono pesate sul mercato quindi che hanno utilizzato gli strumenti per valutare se sono ben pagate e quindi vengono eh con la loro analisi approfondita quindi da questo punto di vista sono sicuramente generazioni attente. Eh non eh non vado oltre che credo che siamo già nel tempo eh limite e poi per lasciare lo spazio alle domande. Perché appunto stanno arrivando un po' di domande e io ve le ve le giro diciamo che siamo abbastanza in tabella con i nostri tempi. Allora la prima è il sistema incentivante monetario può può essere oggi un valore aggiunto per Danone ad esempio avendo moltissime mansioni hanno questo sistema io qui presumo che intenda eh sistema sistema incentivante monetario prego. Eh c'è un sistema incentivante individuale che mischia individuale e collettivo quindi che raggruppa sia obiettivi economici collettivi sia obiettivi individuali. Con dei pesi un sistema che può essere poi differenziato a seconda delle mansioni. Quindi ad esempio i colleghi di vendita o gli informatori hanno sistemi incentivanti dedicati. C'è una lunga storia di di sistemi incentivanti ed è sicuramente la parte che va a riconoscere eh il merito e l'apporto rapporto individuale al risultato collettivo. Anche questo è pesato col mercato ecco quindi in un'analogica di continuo confronto. Ok anche per voi sistemi incentivanti sono beh sì immagino come dire viene viene da sedere. Sistemi sistemi di di breve periodo soprattutto a livello manageriale eh quindi con ogni anno con con obiettivi che vengono stabiliti però è importante quello che diceva il collega cioè oggi le aziende si muovono su benchmark continui no? Quindi oggi partendo dalla pesatura delle di fatto delle posizioni aziendali si è in grado di di stabilire a livello quindi di banche dati di mercato Italia piuttosto che Europa piuttosto mondo quali sono quali sono i trend di mercato no? E quindi è anche questo che fa notare come nell'ultimo anno ci sia stato una uno schizzare verso l'altro sì del fatto di 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 tutto il tema delle retribuzioni medie però il sistema di incentivazione quindi di breve periodo si usa le politiche retributive messe ogni anno a budget con criteri di selettività ciascun capo a secondo le disponibilità delle percentuali gli interventi che può dare mixati tra interventi fissi che tengono conto di quel benchmark che dicevo piuttosto che gli interventi una tanto c'è un sistema complesso che si aggiunge retention bonus e a quanto dicevamo. Poi c'è una seconda domanda chiedono quanti smart working o in percentuale alla settimana prevedono le aziende dei relatori dicendo Danone ha già risposto però volevano sapere anche da voi come vi state regolando. Dico io noi siamo la norma è un giorno tendenzialmente due da uno a due giorni uno due giorni e devo dire che anch'io registro che oltre quasi diventa non interessante per le persone. Cioè le persone vengono. Che non ci sia proprio il singolo che ha bisogno magari per l'attraction abitano più lontano quindi approfittano anche del terzo giorno quindi soprattutto su figure legate per esempio al mondo dell'informatica del digitale qualcuno approfitta del terzo giorno ma mediamente uno due giorni e poi vogliono venire in azienda. Anzi io cito spesso un esempio prima della pandemia io ho provato a differenza dei miei colleghi non avevo lo strumento perché l'ho imparato dopo ma all'inizio qualche sperimentazione volevo farla io ricordo una collaboratrice una nostra collega che mi disse ma no ma Clemente ma perché mi vuol far stare a casa a lavorare io voglio venire in azienda io voglio incontrare le mie colleghe ma quando voglio stare a casa sto a casa e lo farò da casa quindi le persone poi hanno bisogno di una socialità e il lavoro richiede anche lo scambio di informazioni che non è la solita battuta sulla macchinetta del caffè ma proprio l'interazione la relazione quindi vedo che di fatto una volta definito si è autoregolamentato in maniera quasi quasi naturale ok in sé noi abbiamo cambiato abbiamo fatto un po' di sperimenti adesso siamo a due giorni media la settimana in qualche aree quelle più contatto con le operation o le infrastrutture un giorno però tenga conto che i dati che sono andato a ripassare sui primi quattro mesi di quest'anno dicono che il 14 per cento delle persone non lo utilizza poi il venerdì ha una percentuale doppia rispetto agli altri giorni della settimana che quindi invece sono fletta delle nostre survey periodiche che facciamo ne abbiamo fatto un po' ogni sei mesi su questi temi 70 per cento delle persone diceva che è giusto arrivare fino a due giorni sostanzialmente alla settimana quindi con insomma con questi dati con un impatto secondo loro importante sulla produttività del lavoro individuale ho colto prima una cosa abbiamo parlato di smart working ho percepito che è meno di moda nel mondo delle risorse umane e ho colto giusto perché 30 topic e poi alla fine li odi no perché te ne parlano tutti i giorni no adesso sta scendendo perché i temi dell'attraction della retention sono molto più importanti ma perché va guardato perché si è strutturato perché va guardato va guardato con un po' di di oggettività per esempio cioè secondo me lo smart working è proprio un fattore agitatore no sabotatore all'interno delle aziende però poi conta se riesce a fare degli interventi anche sui building aziendali sugli ambienti di lavoro se riesce a rendere i collaborativi no noi abbiamo un progetto che devi lavorare su quello perché poi se alla fine dice alle persone di venire in azienda e tornare in azienda poi l'ottanta per cento delle persone lavora in un ufficio singolo con la porta chiusa allora quel tema lì della socialità rimane scritto negli articoli ma capisce è è un primo passo su cui va costruito va costruito qualcosa e poi guardi l'acqua scorre col senso di gravità trova trova dove scorrere secondo me noi i manager diciamo uno dei compiti che hanno è fare meno danni possibile quindi ogni tanto astenersi sulle questioni va bene grazie anche così della piccola provocazione rasulo come come va noi abbiamo di default l'accordo due giorni di smart working poi facciamo delle valutazioni sulla base delle mansioni adesso il prossimo tema che sarà in voga sarà la settimana corta visto che non è ancora stata citata così dico qualcosa di originale su cui iniziamo già ad avere delle insomma sollecitazioni e fare delle valutazioni sulla sul tema è interessante questo della settimana corta è anche un grande tema perché poi io mi chiedo se è utile veramente a tutti perché puoi concentrare tutto il lavoro se è molto lungo in quattro giorni vuol dire che in quei quattro giorni lì uno non può quindi allora c'è un'altra domanda ecco direi direi l'ultima visto che sono anche le 12 e 14 allora vediamo quarta domanda per crespi chiedo se è possibile ricevere maggiori info sul retention bonus il retention bonus è piaciuto e terza domanda relativamente all'organizzazione dello smart working quali sono stati gli impatti sui team leader e sui responsabili è stata programmata una formazione specifica per aiutarli a ottimizzare la gestione delle risorse in presenza da remoto questa mi sembra una domanda veramente veramente chiave allora girate come dire direi origi così cambiamo clemente se vuole posso cedere la prima parola a Ilaria che ha sempre parlato per ultimo se no va giusto giusto facciamo Ilaria giusto allora dunque io ovviamente speravo di copiare no scherzo da che cosa da che cosa partiamo sulla formazione sì abbiamo fatto formazione sui manager e sui team leader perché già nella fase della pandemia c'era una certa ansia di controllo perché nel momento in cui effettivamente è diventato totale lo smart working c'erano tanti manager che venivano a dire no 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 non sono sicuro di riuscire a controllare le attività al di là di tutti gli strumenti di pianificazione delle attività che ovviamente abbiamo perché insomma siamo un'azienda che principalmente fa software quindi utilizziamo l'agile e tutti i vari sistemi di cui non vi voglio annoiare però sicuramente abbiamo supportato manager e team leader con proprio una formazione però non tanto sul controllo ma quanto sulla leadership quindi abbiamo fatto dei dei percorsi abbiamo e tra l'altro adesso li abbiamo resi strutturali nel momento in cui facciamo i programmi di proprio di piani di carriera per le nostre persone c'è un un percorso proprio per i new team leader e per i new manager che va proprio in questo per capire come assegnare gli obiettivi come fare le valutazioni come mantenere comunque il contatto con le persone gestire i feedback ci siamo appoggiati a all'università e poi anche a dei formatori dei coach che sono in grado di dare questo tipo di supporto ok prego aggiungo solo un paio di considerazioni anch'io condividendo quello che è già stato detto la formazione è stata fondamentale perché le linee di manager intermedie sono state quelle più toccati ecco dalla tematica di dover cambiare la modalità di lavorare formazione di due tipi una in termini di salute di benessere perché comunque il cambio del modo di lavorare ha implicato anche cambi di comportamenti quindi non solo banalmente come allestisco la postazione a casa ma anche come mi prendo cura del mio benessere come sono in grado di applicare quella che si chiamano digital detox quindi la capacità di staccare fra il tempo lavoro e il tempo personale che in pandemia ce ne siamo accorti bene esatto è un piccolo esempio una cosa che ha funzionato molto bene molto piccola noi abbiamo creato un decalogo si chiama da non è working smart dieci piccole regole banalmente da non fare meeting prima di una certa ora metti la pausa organizza meeting in cui tutti possano essere partecipi ecco piccole regole che però aiutino le persone nell'applicare lo smart working in maniera corretta senza farsi sconfiggere poi io personalmente sono un grande fan dello smart working anche della settimana corta vedremo un po dove arriveremo con questo ce lo diamo come obiettivo per il futuro bene eh crespi e clemente la settimana corta per i turnisti è la sfida vera che è tosta ma vedremo no sì sullo smart work ovviamente c'è stata la formazione sui temi della setti in particolare della setti e the worker e poi naturalmente della formazione rispetto alle modalità di approccio tra l'altro ho notato che il rispetto allo smart working in questo caso il la caratteristica generazionale influisce cioè alcuni bias presente in alcuni manager alla fine formazione o formazione non li ha niente eliminati da questo punto di vista no però l'azienda va avanti nella sua nella sua coralità ehm sul no voleva qualche informazione sul retention bonus eh ma il retention bonus di fatto è quello che una volta si chiamava un patto di stabilità tecnicamente no cioè dove lei fa un accordo con con la persona è un accordo formale in cui la persona si impegna a rimanere in azienda per un periodo no quindi dal primo di eh visto che mi parte adesso il secondo progetto dal primo di luglio del ventitré fino al trentaggiunno del venticinque se tu stai in azienda a luglio di ciascun anno quindi in anticipo naturalmente rispetto ai eh ricevi questo bonus che è sostanzialmente un una tanto no eh questo bonus è eh calcolato sulla sulla retribuzione sulla retribuzione attuale in una percentuale che può variare dal dieci al ventidue per cento perché varia perché diciamo la categoria selezionata ti racconto sostanzialmente abbiamo iniziato l'anno scorso con una popolazione di under quaranta ovviamente la persona per entrare in questo programma deve avere una signori che mi pare di di almeno un anno di fatto eh non tutti entrano perché c'è un piccolo algoritmo che sostanzialmente incrocia le competenze delle persone e la loro posizione organizzativa quindi l'abbiamo distinto tra competenze come può essere la mia cioè di staff che pesa meno nel punteggio competenze ehm competenze tecniche in un aeroporto possono essere attività di manutenzione di infrastrutture competenze core che sono invece tipicamente quelle dell'aeroporto quindi eh sala di controllo per la gestione degli aerei piuttosto che problematiche di setti eh queste vengono incrociate poi sull'asse verticale secondo della posizione sei già un responsabile sei in pipeline per entrare nel giro di ventiquattro mesi in un posto di responsabilità oppure oppure in realtà sei sei in una in una in una posizione diciamo iniziale se l'incrocio di questi produce un certo risultato la persona diventa elegibile quindi non tutti sono elegibili e poi questo bonus si incrementa percentualmente a seconda del punteggio che hai ottenuto quindi un ulteriore punteggio ti dà una maggiore azione e poi il fatto che possiedi una laurea stemma o non possiedi una laurea stemma e questo determina eh la cosa interessante è che questo va raccontato a tutti questi giovani in maniera trasparente no? Cioè va raccontato come viene creato il meccanismo perché poi il tema delle buste paga con i giovani è un tema di trasparenza cioè quindi io prendo il 22 per cento quello prende il 18 spiegami perché quindi ci vuole la massima trasparenza nel raccontare di fatto di fatto queste cose però insomma è uno strumento così ce ne inventeremo altri è una forma di attenzione nei confronti diciamo di di queste persone che penso faccia piacere perché io ho voluto incontrarli tutti l'anno scorso questo l'abbiamo fatto per 52 persone quest'anno nel secondo giro ce ne sono 18 andiamo avanti col processo rolling però sono interessanti incontrarli tutti perché capisci capisci la 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 reazione no? Eh molto positiva nei giovani giovani eh un po' più guardinga in quelli che hanno magari una seniority più elevata più legata al tipo di contratto mi lega non mi lega eccetera. Ok. Clemente? Adesso io prendo anche la soddisfazione di dire che è stato già detto tutto prima quindi non bisogna raggiungere niente l'unica cosa ma per sottolineare eh siccome work in progress stiamo imparando ripeto noi su tutte queste cose impariamo e abbiamo ancora tanto da imparare smart working compreso è stato uno scontro non da poco con le linee di management all'inizio quindi capisco quando il collega chiama sabotatore lo smart working è stato un momento di confronto intenso devo dire che oggi questa cosa si è decisamente attenuata e quindi possiamo veramente passare alla fase del massimizzare l'effetto organizzativo dello smart working andando a lavorare su la relazione diretta di responsabilizzazione tra azienda e lavoratore però all'inizio è stata dura veramente dura. Ok bene eh veramente grazie veramente grazie per la disponibilità rapidità e generosità con cui insomma ci avete messo in parte insomma delle cose che state facendo a casa vostra grazie a Confindustria Lombardia per l'opportunità e vi segnalo mi segnalano che tra l'altro c'è un' attenzione da parte delle associazioni territoriali di Confindustria sul tema retributivo ci sarà effettuato un'indagine eh in autunno a cui le aziende potranno partecipare tra l'altro avendo un'analisi personalizzata e gratuita della loro situazione aziendale. Eh bene ancora grazie grazie a tutti e buona giornata a presto. Grazie.